salve ragazzi benvenuti in questo breve video diciamo aggiornativo per quanto riguarda il metodo corner ogni 10 minuti è stato un fine settimana molto ma molto positivo molto interessante la verità economicamente tra sabato domenica e oggi lunedì praticamente 100 per cento delle partite prese perché il metodo è semplicissimo se non ha visto ancora il video te lo lascio in descrizione vi consiglio di dargli un'occhiata come dicevo un metodo semplicissimo praticamente tutte le partite che avevano dei parametri scelti ovviamente da me non hanno mai superato il quarantesimo quindi circa il 70 per cento più o meno avevano già effettuato almeno un corner nei primi 10 minuti tra il decimo al ventesimo quasi il 20 25 per cento qualcuna giusta dal trentesimo al quarantesimo però questo può succedere non dico che è un metodo 100 per cento sicuro perché prima o arriverà che magari becchiamo la partita storta e si può perdere si può perdere parecchio questo sì però avendo sempre una gestione del budget ok pensate che in questo fine settimana ho già circa il 20 22 per cento del budget iniziale quindi credo che in un'altra settimana già avrò raddoppiato il mio budget quindi grazie avendo anche un ottimo gestione del budget molto importante i campionati da evitare sicuramente il campionato norvegese il campionato svedese sto valutando ancora il campionato danese e quello finlandese che sono ancora un po incerti però sicuramente da evitare norvegese e svedese perché perché la maggior parte delle volte la quota si abbassa 1 44 1 quindi non adatto al metodo o cambia la tipologia di giocato quindi da over 0.5 aumenta a 1.5 un altro campionato molto interessante che ho notato in questi due tre giorni quindi andate anche magari se volete provarlo con cautela è il campionato romeno la serie a della romania adesso non mi ricordo come si chiama un altro campionato molto importante dove andata adesso messi il problema là è solo per una questione di orario però ha anche il campionato argentino non quello brasiliano brasiliano è come il norvegese la quota cambia non è affidabile quello argentino sto ancora valutando però anche là un problema di orario quindi giocando a mezzanotte o alle 3 di notte è un po complicato però ci sono partite che giocano per esempio alle 8 di sera ore italiane ragazzi il video finisce qua a breve vi posterò un altro risultato per non so se per il fine settimana per venerdì se volete altri pronostici basta dare un like o magari anche commentare so che magari in tanti non possono essere d'accordo con questo nuovo metodo però ragazzi la la verità è un'altra la verità sono i risultati giocando con un budget piccolo non avendo un rischio enorme io credo che si può tentare mi raccomando iscrivetevi al canale lascia un bel like noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi